Dopo uno stop durato ben due settimane il Matese ritorna in campo nell'arena del Ferrante è un ritorno attesissimo quello dei bianco-verdi che sfidano oggi per la 29esima giornata del campionato di serie di Girone F i molisani del Vasto Girardi che dissano 5 lunghezze dai lupi matesini di Mister Urbano settimi a quota 40 Fischietto della gara il signor Matteo Cavacini della sezione di Lanciano coadjuvato dagli assistenti Martinelli della sezione di Potenza Andiamo subito a vedere le scelte dei due tecnici cominciando dalla squadra ospite il Vasto Girardi che schiera con Mister Tommaso Coletti Nappo, Importa, Solimeno, Gargiulo, Anto Giovanni, Modesti, Grandis, Fiori, Sergio, Calemme, Pier Federici e Macni invece per quanto riguarda le scelte di Mister Corrado Urbano la formazione padrone di casa schiera a Palombo in porta difesa a 4 con Riccio, Setola, Lagamba e Cisca centrocampo a 3, il solito al terzetto di centrocampo con Carnevale, Ricciardi e Ricamato ed infine tridente, offensivo, pesantissimo con Sorrentino, Esposito e Napoletano pronti via, è del Vasto Girardi il primo possesso della gara riceve palla adesso, poi allarga tutto per Riccio subito Matese che parte con il piede in avanti Riccio la mette al centro, calcio d'angolo il primo per Esposito che aggancia la sfera poi se la porta sul terzo, atterrato, non c'è niente secondo il direttore di gara clamoroso, pallone messo in mezzo, una conclusione Palombo ci arriva senza problemi, Ricciardi, poi Carnevale per 10 centrali perde un pallone sanguinoso, Calemme prova la conclusione Calemme, traversa incredibile, è Napoletano, è solo Napoletano Napoletano in area di rigore con il destro, è Napoletano palla che è simile il palo e prova la conclusione col sinistro, Palombo devia in calcio d'angolo con il brivido sfera sempre gli ospiti, Calemme, Anto Giovanni invitata alla conclusione, può calciare il numero 4 la blocca senza alcun patema è Napoletano che con la sponda si affida a Ricamato può guadagnare metri il Matese palla in avanti per Esposito che va sul destro una finta, finisce giù Esposito ancora una volta non c'è niente nessun contatto falloso stesso in favore degli altomolisani che gestiscono la sfera con Fiori Fiori, Fiori, supera stavolta Riccio entra in area di rigore, la mette col mancino Palombo non esce, Macchini la prende, calcio d'angolo Riccio sul pallone, va lui con il destro una conclusione, Nappo in due tempi allarga tutto per Anto Giovanni soliti tre passaggi all'indirizzo di Fiori che supera Riccio, la mette col mancino allontana la difesa del Matese ancora un brivido, ancora brivido e finisce qui la prima frazione di gioco vanno negli spogliatoi FC Matese e Vastor Girardi sul ponteggio di 0-0 mentre comincia la seconda metà di gara al Ferrante serve Napoletano, Napoletano prova sul destro, calcio Napoletano si fa trovare pronto Nappo prova a servire Esposito che la mette giù uno contro uno con Pierp Federici lo supera Esposito la mette col mancino calcio ricamato occasionissima per il Matese all'undicesimo Esposito, Esposito entra in area di rigore Esposito col destro eccolo qui è tornato il marziano Vittorio Esposito colui che trasforma il calcio in poesia sblocca la gara che Esposito ha cercato e trovato va il 10 col destro non inquadra la porta pallone messo al centro col mancino per Carnevale da un mancino all'altro Carnevale la piazza Nappo occasione per il Matese per portare a due le marcature va Esposito sul secondo palo stacca Scisca che occasione per il Matese che occasione Matese adesso tante occasioni attenzione Napoletano però supera il Nappo Napoletano la legge di Napoletano lui non vede la porta la sente ed è 2 a 0 per il Matese Fiori ce l'ha sul mancino calcia ribatte setola poi arriva questa conclusione Hernandez che prova ad entrare sul mancino attenzione calcia palombo in due tempi e anche per lui 90 minuti con una buona intensità attenzione ecco sempre Riccio Riccio calcia Riccio 3 a 0 Matese la chiude la chiude qui Antonio Riccio che mette il punto esclamativo sulla gara tra FC Matese e Vasto Girardi al Ferrante una gara a senso unico una gara vinta meritatemente dal Matese dalla conclusione può ritirarsi qualche spazio calcia col mancino Calem l'ultimo brivido per il Vasto Girardi muoverà il Ferrante il Matese vince e convince per 3 reti a 0 ai danni del Vasto Girardi il Matese il Matese